Chi ti può occupare di arriva solo se non mi riesce da casa? Se è possibile, se ti chiedo così, ti metto in cuore qui nel pedocco. Non ti capisco, ma non ti puoi stare qua con la barca? No, non ti puoi stare qua con la barca? No, non ti puoi stare qua con la barca? Non ti puoi stare qua con la barca? No, che cosa ti puoi stare qua con la barca? Perché se tu fai la barca, se tu fai la barca posso stare qui? Non ti puoi stare qua con la barca? Non ti puoi stare qua con la barca? Non ti ho restato quello che sia la barca? Se sessantemente muerto. Si chien rambo che puoi stare qua. Cosa puoi stare qua? Ma cosa puoi stare qua? Nero, la spot hoia semplice. Si, incredibile! I just need to lift my elbow and I know I'm not gonna hit my elbow Amazing